Servizio civile universale, un'opportunità che fa gola anche ai bellunesi, lo testimoniano le 760 domande di partecipazione al bando 2020 relative all'anno 2021-2022 registrate dal Neo CSV Belluno Treviso ETS. 131 riguardano la provincia di Belluno, 630 sono state le richieste provenienti dal Trevigiano. Numeri molto simili fanno sapere dall'ente se rapportati in percentuale agli abitanti delle due province. L'attività coordinata sul territorio dall'Unione Montana Feltrina e rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni prevede l'attivazione in provincia di 6 progetti per un totale di 74 posti disponibili, tra gli ambiti di intervento, assistenza, bibliotecario museale e protezione civile. Le attività avranno la durata di 365 giorni con avvio previsto in primavera per un impegno di 25 ore settimanali. A ciascun volontario lo Stato corrisponderà un'indenità di servizio di 439,50 euro mensili. I candidati dovranno affrontare ora un colloquio in seguito al quale verrà redatta una graduatoria delle ammissioni certificata a livello statale. Un'ulteriore opportunità per i giovani dunque in un contesto difficile come quello causato dal Covid. Il servizio civile rimane un elemento attrattivo per i giovani, nel senso che l'idea di mettersi a disposizione delle comunità locali in varie attività è un'idea che passa nel mondo giovanile. Non solo una palestra di vita, ma anche un'occasione per acquisire competenze professionali, perché l'impegno nel servizio civile non vuol dire fare cose inutili, vuol dire fare cose utili ed apprendere anche cose che poi servono nel mondo lavorativo quando andranno a collocarsi in altre condizioni, in altre modalità.